Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi giornata all'interno dello sport, infatti andiamo a vedere in mille miglia la tappa di Monte Catini Terme. Seguiteci! Grazie a tutti! Andiamo a scoprire che faranno il loro passaggio. No! 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 No, sì, sì, è uguale, non è, è quasi raro. Attenzione, le macchine stanno partendo per il controllo ovario e non possono libertare, per cui le persone si metteranno in armi. Non inondrate, perché questi mi portano via. Grazie a tutti. 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 Avete visto anche il Mille Miglia. Se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace, condividete il video e attivate la campanella. Ciao e alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.